Ciao Acquario, bentornato. Oggi è giovedì, 31 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Qual è il tuo numero oggi? Guarda fino alla fine del video per scoprirlo. Oroscopo Acquario. Segno fortunato. Preparare una vacanza, che fatica. Illuso chi crede che le vacanze siano solo relax. A 48 ore dalla partenza per una mini vacanza e anocra meno dalla festa che state preparando per domani sera, approfittate dell'offerta generosa di un amico a darvi una mano nelle decorazioni e nella preparazione dei dolci o se ha le mani in pasta coi motori un'occhiata alla vostra vecchia carretta, affinché faccia la brava anche stavolta, portandovi in giro senza tossicchiare o crearvi contrattempi. Qualsiasi cosa facciate, dopo una giornata di lavoro così piena il contorno aggiuntivo, vi ritrovate spappolati con l'energia a malapena sufficiente per sbocconcellare qualcosa, prima di crollare esausti sul materasso. Forti tensioni anche in azienda, troppa gente competitiva che vede solo la carriera, non si innamora, non si diverte, quasi non vive, ma voi sì, non rinuncereste mai alle emozioni, avrete una vita anche spericolata ma a 360 gradi. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. I problemi che vi affliggono potrebbero aumentare proprio oggi, sperare in soluzioni esterne non farà altro che peggiorare la situazione. Se siete gelosi, o vi sentite tali, moderate la vostra gelosia, o almeno tentateci. Potreste essere al limite della sopportazione senza saperlo. Giorno favorevole per chiedere prestiti e qualche piccolo favore. Forte intuito. Vantaggi da spostamenti e viaggi. Novità in amore ma di poco conto. Le vostre emozioni oggi saranno particolarmente intense, dovreste provare a vivere relazioni più autentiche e profonde e, ad ogni modo, più soddisfacenti dal punto di vista della fiducia reciproca. Oggi è proprio il giorno delle delusioni in tutti i campi, solo nella tarda serata vi rasserenerete. Avrete qualche motivo forte per recriminare su alcuni episodi dei giorni scorsi, non fatene un problema, vi riferete presto e bene. Fate attenzione ad alcuni cattivi consigli che vi potrebbero dare oggi. Ciò che inizierte oggi vi porterà benefici, siate flessibili e tolleranti. Farete le cose giuste al momento giusto, si prevedono entrati di denaro impreviste. Opportunità per i nati di lunedì, giovedì, sabato e domenica di avere nuovi incontri e conoscere persone davvero interessanti, alcune delle quali potrebbero offrirvi dei vantaggi pratici utili per risolvere tante questioni in sospeso. Anche in amore qualche sorpresa in arrivo. Se speravate nell'aiuto di una persona a voi cara, oggi non contateci troppo, se vi sembrerà latitante non datevi pensiero, è solo che ha i suoi problemi e spesso dimentica quelli delle persone care. L'aluno nel segno amico della bilancia splende per voi, aumentando il vostro fascino e, per chi ne ha la possibilità, aprenda esperienze culturali e artistiche, anche attraverso piccoli spostamenti nelle immediate vicinanze. Solo chi appartiene alla prima e terza decade, fronteggia il duo sole, urano imbronciato dallo scorpione e dal toro, che gli pone lievi problemi familiari. Per chi di voi ne ha la possibilità, il contatto con l'aria e l'acqua consentono di rigenerarsi e ricreare le energie. Nuoto, vila, canottaggio e bici sono le attività per voi più congeniali. Giove vi facilita la passione anche per nuovi altri sport. Giornata magica per voi, super coccolati dalla luna bilancina e gioven gemelli, pronti entrambi a parlarvi di viaggi, di svaghi, di piaceri, con la festa di Halloween alle porte e con i vostri amici tornate ragazzini anche voi. Ma c'è anche l'eventualità di un viaggio, visita parenti o gita culturale. Muoversi per voi è sempre una gioia indescrivibile, cambiare ambiente cambia il paesaggio, la prospettiva, le vostre emozioni, i vostri desideri. Aggiungeteci anche la bella venere in se stile, promessa di un interscambio piacevole con gli altri e magari di un'amicizia che si apre al flirt. Amore ed eros. Belle amicizie e nuove conoscenze, tutta gente interessante, colta, avventurosa come voi, viaggiatori intalliti naturalmente, altrimenti non avreste nulla da raccontarvi. Cuore diviso a metà tra gli affetti umani e quelli per gli animali, non solo il vostro quattro zampe ma anche i poverini bistrettati in giro in cerca del padrone e gli animali selvatici in estinzione per colpa dell'uomo sempre più avido di denaro e di potere. Se siete nati in febbraio vostro temperamento molto liberale può essere scambiato per disinteresse. Sappiate dosare i vostri slanci e la capacità di lasciare spazio al partner, che alcuni erroneamente scambiano per indifferenza. Plutone e Giove entrambi positivi vi aiutano nell'espressione del vostro desiderio. La vita affettiva si nutre di rapporti importanti sia di quelli consolidati nel tempo che di nuovi, che si fanno strada. Lavoro e denaro. Tutte le carte in regola per sgobbare come muli ma con risultati eccezionali, le prove non mancheranno ma le supererete tutte brillantemente, le sfide vi piacciono e vi intrigano regalandovi un senso di euforia e di potere. Mente già focalizzata sul viaggio che avete deciso con gli amici, partenza giù domani sera, nulla di organizzato e regolamentato dai consueti circuiti turistici, si partirà all'avventura con zaino e sacco a pelo, per notto in ostello. Sarà il percorso a chiamare voi e non voi a stabilirlo razionalmente. Nettuno in bella posizione dai pesci vi consente ottime performance lavorative, specie se siete della terza decade e se avete abbracciato una libera professione. Sapete giocare d'anticipo e siete voi a creare i cambiamenti, prima e anziché attendere che si verifichino. Benessere. Pimpantissimi, siete il ritratto della salute, belli fuori e belli dentro come la pubblicità di un nuovo integratore a base di pompelmo, zinco e vitamina C, da provare. Per lei, impensabile portarsi in giro il quattro zampe per una vacanza di tre giorni, ringraziate perciò di cuore il vicino o il parente che si offrono di ospitarli. Bravi ad abituarli gradualmente come si fa con i bimbi e la nuova tata. Per lui, malessere in fase iniziale subito risolto con tisane e preparati erboristici, la natura fa il medico e anche l'infermiera. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie. Grazie.